Lo spinoso argomento del fine vita rappresenta per l'Italia oramai da molti anni l'oggetto di un dibattito pubblico protagonista di battaglie giudiziarie nelle quali il legislatore e giudice costituzionale hanno di fronte a loro scelte a dir poco difficili. In una realtà la nostra ben distante da quella di nazioni come l'Olanda, nella quale il protocollo di Groningen ammette l'eutanasia su individui dai 12 anni di età, o come il Belgio o la vicina Svizzera, paese a cui più frequentemente si appellano italiani in condizioni disperate, arduo barcamenarsi tra principi costituzionali come l'articolo 2 della Costituzione che sancisce la dignità dell'individuo, l'articolo 13, quello in cui ad entrare in ballo è la libertà individuale sia fisica che morale, o ancora l'articolo 32 sul senso di umanità o sul pungente argomento del rifiuto delle cure mediche. Ieri a Sondrio, presso la sala consigliare di Palazzo Muzio, l'incontro dal titolo Il fine vita, aspetti etici, giuridici e medici, organizzato da Associazione Nazionale Magistrati della Sottosezione di Sondrio e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Capoluogo. Presenti all'incontro il professore Alessandro Bernardi, già professore ordinario di diritto penale e diritto penale europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara e il dottor Luciano Orsi, medico palliativista e vicepresidente della Società Italiana di Cure Palliative. L'Italia è ancora all'inizio di un percorso di cui non si conosce esattamente la fine, è un percorso iniziale in cui per la prima volta con la sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale si ammette la legittimità di un aiuto a morire che non è soltanto una sottrazione di cure salvavita ma è anche l'ammissione in casi però oltremodo circoscritti di sostanze anticipatrici della morte. Un paese, il nostro, nel quale non mancano gli esempi legati a vicende emblematiche e che accendono i riflettori su un tema verso il quale questioni mediche si intrecciano a morale religiosa e dignità dell'individuo. Basti pensare alla vicenda dell'attivista Pier Giorgio Welby, morto nel 2006 o al caso ben più recente di DJ Fabo per il quale lo scorso dicembre fu assolto l'esponente radicale Marco Cappato. Sentenza salutata dai favorevoli all'eutanasia a quale piena espressione dell'articolo 2 della Costituzione è basata su quattro ipotesi. Malattia irreversibile, sofferenze insopportabili, cure salvavita e volontà chiara di morire. Sta emergendo dopo il caso DJ Fabo il tema dell'aiuto medico a morire, quindi il suicidio assistito che è un tema estremamente complesso su cui bisogna riflettere moltissimo perché da un lato c'è il diritto del malato, dall'altro c'è una concessione della medicina che è estranea, fino adesso è estranea all'aiuto medico a morire. Nel 2007 un passo fondamentale nella battaglia per il riconoscimento della libera scelta del fine vita, la pronuncia della Corte di Cassazione sul caso Englaro in cui si afferma che il diritto alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo, il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, fino anche di lasciarsi morire.